Che cosa accadrà? Vedrete che verrà messo in onda un cartone animato di Tom e Jerry e i ragazzi con le percussioni cercheranno di sonorizzare i diversi rumori di Tom e Jerry delle diverse situazioni con tutti gli strumenti e allora buona missione di Tom e Jerry. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.